Eccoci qui a termine di una gara che ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. Giorgio, cosa ci puoi dire? L'amaro in bocca? Sembrava un film visto, 21 pari, 21 pari, tutti i 3-7 e persi. Più ne abbiamo perso un'altra durante il riscaldamento, ci gira così e vediamo. Continuiamo a lavorare e arriveranno a momenti migliori. Speriamo bene. Invece una nota positiva, qui abbiamo Martina Susio ripresa dall'infortunio di settimana scorsa. Domani avrai un'esperienza importante, sarei convocata al centro pavesi, farei un collegiale di tre giorni. Marti, come ti senti? Sono molto entusiasta, voglio giocare e conoscere nuove ragazze e non vedo l'ora. Mi raccomando non metterti le dita nel naso. Da Medole è tutto, buona serata. Grazie. 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 Grazie.